Come ti ho detto signore, il nostro schiavo fedele e discreto ha ricevuto nel 1966 un nuovo cibo spirituale direttamente da Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo per proclamare alle nazioni l'armageddon imminente per la sera del 5 settembre 1975. Siamo ora nel gennaio 1975 e rimane a lei solo nove mesi in poi per aderirsi all'organizzazione di Dio sulla Terra, la unica vera religione della cristianità, che è la società Torre di Guardia dei Testimoni di Geova. Solo all'interno di questa organizzazione della Torre di Guardia lei si può salvare dall'armageddon in arrivo, e se lei non si è incorporato all'interno della nostra organizzazione prima di il 5 settembre prossimo, lei sarà distrutto insieme ad altre persone che appartengono le altre false religioni del cristianesimo, soprattutto con i cattolici, evangelici, mormoni, avventisti, anglicani e tutte le chiese protestanti del mondo. Forse lei non sa, caro signore, che Dio ha scelto al pastore Charles Thais Russell nel 1879 per fondare la vera religione restaurata, con il nome della società Torre di Guardia, per portare alle persone del mondo dalle tenebre la ammirabile luce della verità biblica, e anche avvertire la gente circa l'imminente fine del mondo per 1914. Sappiamo che il nostro fondatore, purtroppo, aveva commesso alcuni errori nei suoi insegnamenti che abbiamo ora scartato del tutto, e che egli anche ha fallito con la data della fine del mondo per l'anno 1914. 1914. Ma questo non importa, tutti commettiamo errori. Nessuno è perfetto. Poi, nel 1916, quanto è morto il pastore Russell, è venuto come nuovo presidente della società Wachtover, il suo successore, il signor Joseph Rutherford, egli anche aveva fissato la sua data della fine del mondo per l'anno 1925, e poi, con altra nuova data per l'anno 1941. Beh, tutti commettiamo errori, anche Rutherford aveva sbagliato con sue date della fine del mondo, ancora noi restiamo come l'unica vera religione sulla Terra. Ma credici, ora, se abbiamo con certezza la data esatta e corretta della fine del mondo per questo anno 1975. Il nostro teologo illuminato, il signore Fred Franz, ha ricevuto direttamente da Gesù Cristo stesso, mediante lo Spirito Santo, la data esatta della fine degli 6.000 anni di storia umana e l'inizio del regno millenario di Dio per l'autunno di 1975 fino all'autunno di 1975. Questa data è molto ben spiegata nel libro intitolato «Vita eterna nella libertà dei figli di Dio», pagine 31 al 35, ed scritta nel 1966 da Fred Franz, «Il nostro presente e unico schiavo fedele e discreto, il nostro grande ed empirico teologo illuminato». Questa nuova data per l'autunno di 1975 è supportata per la cronologia che si trova nella stessa Bibbia, e come noi siamo l'unica vera religione che Dio ha usato come suo unico canale terrenale, egli non ci può mentire con questa nuova data della fine del mondo per l'autunno di questo anno 1975, e che il suo emissario, Gesù Cristo, ha dato al suo schiavo fedele e discreto terrenale per dare come cibo spirituale ai domestici e le nazioni a tempo devito come avvertimento. Per favore, Signore, non sia incredulo e subito accetti uno studio biblico con noi, e così lei sarà salvato dall'armageddon in arrivo il prossimo 5 di settembre. «Non sia testardo e prenda subito un studio biblico urgente con noi perché il tempo è ridotto, ed è molto urgente e importante che mai, il giorno del Signore sia avvicinato».